Presentato questa mattina nell'aula consigliare del Comune di Eboli alla presenza del sindaco Massimo Cadiello e dell'assessore Carmine Busillo l'evento Christmas Street Art Fest organizzato dal Forum dei Giovani di Eboli con il Comune che si svolgerà il 15 e il 16 dicembre in Via delle Arti, Corso Garibaldi e Corso Umberto I dalle 17 fino alle 23. Gli eventi in programma sono tantissimi e volti a promuovere l'arte e la fantasia della città di Eboli. Un altro evento importante che va a mettere un ulteriore sigillo su Natalia d'Eboli e che lo fa in modo particolare con un coinvolgimento diretto del mondo giovanile ebolitano, un mondo giovanile molto attivo, molto operativo capace anche nell'organizzare e nel collaborare con l'amministrazione comunale. Noi abbiamo messo in campo tutti gli strumenti che loro hanno richiesto però devo dire che sono molto contento di questa nuova realtà del Forum dei Giovani che è molto proattivo e coinvolge anche le zone periferiche perché poi avremo anche un evento che poi si terrà dopo i 15 e i 16 a Corso Garibaldi e a Corso Umberto I diciamo dal 20 al 25 anche a Santa Cecilia di Eboli. Questo fa capire che ormai hanno avuto e hanno una visione omogenea del territorio e poi una giornata di sport, di divertimento, di prevenzione, di socializzazione. Che cosa potevamo volere di più se non quello di mettere all'interno del nostro Natale 2018 che rappresenta forse tra le più belle che ci siano mai state nella storia della città di Eboli una presenza costante e operativa del mondo giovanile. Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa con tutti i ragazzi del Forum che pubblicamente ringrazio e sono molto contento di questa squadra che in maniera unanime lavora a tutti gli eventi che mettiamo in campo quindi stiamo aspettando i giorni 15 e 16, vi aspettiamo a Via Garibaldi e Corso Umberto I per due serate di divertimento da passare tutti insieme. La splendida iniziativa, la prima uscita di questo Forum dei Giovani di Eboli che si è ricostituito e già in due mesi ha organizzato tutta questa kermessa, si può dire, di vari eventi e varie attività. Il giorno 15 e 16 vi invitiamo nella città di Eboli per vivere insieme questo momento organizzato dal Forum. Loro mi fanno sentire sempre più ragazzino e quindi c'è bisogno di avere questo spirito libero, creativo, artistico. Loro hanno preparato già dei bozzetti, hanno delle idee abbastanza più fresche di quelle che noi artisti del territorio non riusciamo a dare, insomma. È una bella iniziativa e spero di fare ai ragazzi una bella esperienza, insomma. Il liceo artistico del territorio è stato sempre presente a tutte le iniziative dei giovani e dell'arte dal 1970 dove sono stato io il primo alunno, quindi tutti questi anni ha seminato una serie di creatività sul territorio.